La ciclo peperoncini quest'anno di nuovo in pista condivise nuove un logo che è una gioia per la vista di certo la prima tappa la faremo piano piano per arrivare freschi al lago di Bracciano che se la vita è un viaggio noi lo facciamo in bici con un po' di fatica ma saremo più felici dopo una ricca colazione partiremo la mattina perché la seconda tappa ci porterà a terra cina tra il canto dei gabbiani e il suono delle onde del mare sarà un grande piacere essere insieme a pedalare che se la vita è un viaggio noi lo facciamo in bici con un po' di fatica ma saremo più felici da torre annunziata tutti in fila lungo la costa se qualcuno dovrà far pipì faremo qualche sosta rimarremo a bocca aperta sulla costiera amalfitana ma la chiuderemo a cena con la pastiera napoletana che se la vita è un viaggio noi lo facciamo in bici mai meglio in compagnia di tanti buoni amici un po' stanchi in calabria quasi vicini al finale chilometri di emozioni che non potremo dimenticare e tanta gente ha da applaudire la fine di questo cammino sembrerà di essere al giro d'Italia per le strade di San Mangodacuino che se la vita è un viaggio noi lo facciamo in bici a volte fa fatica ma rende più felici tutto bene guarda che merda